ciao ragazzi bentrovati in un nuovo video allora oggi porteremo gli annunci strani da ridere come vi ricordo questa serie nasce dal fatto che a me piace trovare affari affarini sul facebook marketplace e ogni tanto incappo in degli annunci un po strani un po così che a me fanno almeno sorridere quindi ho deciso di condividerli con voi come al solito se il video vi piacesse mi invito a lasciare un like e magari iscrivervi al canale se siete nuovi adesso andiamo per iniziare abbiamo una bellissima vabbè oliera da centrotavolo ma più che un oliera a me sembra un papagallo di quelli che ti danno in ospedale o quando sei a letto per fare pipì però vabbè è un oliera successivamente questo signore o signora non ricordo ci avverte che ha 15 chili di oro grezzo e magari li tiene in casa sua non mi sembra facebook il posto migliore dove dire che ai 15 chili di oro grezzo poi abbiamo un galaxy zeta fold telefono lo vende a un euro non trattabile io sinceramente per un euro lo prendo anche se non è trattabile poi un camino in legno ora spiegami a cosa serve un camino in legno e per finire qualcuno che ha capito a cosa serve la vr masturbatore uomo sense max sense vr maschile vagina finta anno sega realistico un visore vr per telefono per vedersi quei filmati un po così e finalmente questo è il senso della vr ok ragazzi anche oggi abbiamo visto i nostri annunci spero che il video vi sia piaciuto enjoy